L'Abruzzo è pronto ad abbracciare i bimbi dell'Ucraina, ma bisogna farlo con ordine e organizzazione. La regione Abruzzo, attraverso la garante dell'infanzia e dell'adolescenza Maria Concetta Falivene, ha pubblicato un avviso finalizzato a stilare l'elenco delle famiglie e dei singoli che si offrono come tutori volontari per bimbi, orfani o senza accompagnamento, anche se più che altro per ora ad arrivare nella nostra regione sono famiglie in fuga dalla guerra. Si cercano anche mediatori linguistici e culturali per raffacilitare la comunicazione e l'integrazione dei ragazzi. La durata del periodo non è accertata, ovviamente dipende dall'evoluzione del conflitto. Con il presidente del Consiglio regionale, l'assessore alle politiche sociali e la mia figura, sentiti ovviamente i dominus che sono i prefetti e il Tribunale per i minorenni, abbiamo messo in atto un'attività di ricognizione con moduli che verranno riempiti, ovviamente inviati alle autorità competenti, ossia alla Prefettura e al Tribunale per i minorenni. Si richiede anche, qui parliamo di accoglienza temporanea, di famiglie, fortunatamente i bambini senza famiglia sono pochissimi, fortunatamente, e il tutto verrà inoltrato alle autorità competenti perché bisogna rispettare il dettato legislativo. Questo è fondamentale che esiste per l'accoglienza e poi per quello che sia proprio la dislocazione sul territorio abruzzese. Vi è una partecipazione sentita molto importante dalle famiglie abruzzesi, bisogna semplicemente ricondurre al discorso di applicare la procedura. Chi avesse a disposizione un ambiente in più in casa, una casa e volesse metterla a disposizione per accogliere queste persone in maniera volontaria e ovviamente non retribuita, tengo a precisare, a chi si deve rivolgere? Noi abbiamo predisposto, quindi sia con il Consiglio regionale, l'assessore delle politiche sociali, una mail, tra poco verrà pubblicato sul sito della regione, una mail dedicata che potranno con, ovviamente si potranno scaricare i moduli, mandare a me questa mail dedicata e io ovviamente inoltrerò al prefetto, alla prefettura e al tribunale per i minorenni. Grazie a tutti.